Ragazzi, sì, è tornata, mettiamo bene la fotocamera, è tornata, la nazionale, è la nazionale italiana. Sì, stiamo tornati a soffrire con la nazionale italiana perché tra poco si disputeranno le qualificazioni agli europei e dobbiamo oggi semplicemente andare a reagire alle convocazioni di Luciano Spalletti. E sì, ragazzi, questo è il secondo ritrovo del nuovo CT della nazionale Luciano Spalletti. C'era bisogno un po' una pausa per tutti dopo le nostre squadre che hanno ricominciato a giocare a palla veramente ogni tre giorni e abbiamo bisogno di una pausa, sperando ovviamente la nazionale ci faccia prendere meno infarti di quanto ci faccia prendere la nostra squadra del cuore. Obiettivo qualificarsi da primi agli europei e è provvidenziale, è essenziale fare sei punti contro Malta e Inghilterra. Malta che si giocherà questo sabato e Inghilterra che si giocherà martedì a Wembley, ricordiamo. Malta in casa e l'Inghilterra a Wembley. Dobbiamo fare sei punti, anche perché l'Inghilterra sta a sei punti in più di noi, ma noi abbiamo una partita in più. Quindi se vinciamo con Malta andiamo a meno tre, l'Ucraina anche, che sta pari merito con noi se non erro, ha una partita in più. Quindi andremo a più tre dall'Ucraina e meno tre dall'Inghilterra. Se vinciamo con l'Inghilterra avremo pari, ma per sconti diretti andremo solo all'Inghilterra e saremo primi. Detto questo, andiamo a reagire però alle convocazioni di Luciano Spalletti. Ve le metterò qui, quindi mi faccio un po' più qui e un po' più qua appunto. E cominciamo appunto, secondo me, con il reparto migliore che abbiamo dai portieri. I portieri che sono stati convocati appunto Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, Alex Meret dal Napoli, Ivan Provedel dalla Lazio e Guglielmo Dicario dal Tottenham. Che dire? Secondo me non c'è molto da dire per quanto riguarda i portieri. Secondo me importa l'Italia, è una delle nazionali ben messa più forte a livello di portiere al mondo. Cioè l'Italia in porta non ha niente da invidiare a nessun'altra nazionale che sta su questo globo. Neanche alle migliori, perché la Francia per esempio ha Lloris e Mignon, ma noi abbiamo Donnarumma e Provedel. Donnarumma è vicario, non abbiamo niente da invidiare. E le parti su cui lavorare, secondo me, sono altri. Avrei convocato qualcun altro? No, no. Questi sono i quattro portieri più forti. Altri portieri italiani che mi vengono in mente sono Perinna. Poi sono Montipò, mi viene in mente, sono Di Gregorio. Sono portieri fortissimi, di fatti l'Italia è rinomata per i suoi portieri, ma sono ancora troppo acerbi per entrare in nazionale. Anche perché qui stiamo parlando di portieri anche loro super giovani. Provedela qualche problemino fisico all'anca, quindi bisogna vedere se recupererà. Altrimenti dovrebbe subentrare un altro portiere. Tra parentesi, secondo me quattro portieri sono anche troppi, cioè perché te li devi portare quattro. Però va bene, quindi reparto portieri, secondo me, non tocca neanche parlare più di tanto. Ed ecco invece che entriamo nel reparto difensori. L'Italia che giocherà con una linea a quattro, il famoso 4-3-3 di Luciano Spalletti. I difensori convocati sono Francesca Cerbi dall'Inter, Alessandro Bastoni. Dall'Inter, Cristian Viraghi dal Fiorentina. Ovviamente una riconferma perché non sto andando benissimo, ma è un giocatore chiave di Lorenzo, che farà il terzino titolare. Federico Di Marco dall'Inter, Federico Gatti dalla Juventus, Gianluca Maggini dalla Roma, Giorgio Scalvini dall'Atalanta e Destini Udogi dal Tottenham. Tanta, tanta, tanta roba. Ottimo reparto, però andiamo per gradi. Perché secondo me, totalmente giusto, incominciamo dalle certezze. I super convocati qui sono Alessandro Bastoni, ovviamente, Di Lorenzo conferma, Di Marco una conferma, anche lo stesso Mancini tranquillamente una conferma e Giorgio Scalvini una conferma. Questi sono i cinque difensori che 100% sarebbero stati nella lista dei convocati. Però sappiamo che in totale sono nove i difensori. Cinque sono state le certezze e quattro, diciamo, due magari un paio potevano essere delle mini sorprese, altri due invece potevano essere veramente delle incognite, perché non si sapeva se sarebbero stati interrogati. Convocate, no interrogate. Francesca Cerbi, giustissimo secondo me convocare Cerbi, perché è un giocatore che ti può dare esperienza, perché è vero il cambio generazionale. Però non lanciamo una squadra di giovani, anche perché se no magari un europeo lo vinciamo tra dieci anni. Manteniamo una piccolina ossatura. I vari Acerbi, i vari altri veterani. Qua non vedo altri veterani. No, onestamente lui è l'unico, quindi è inutile che parliamo anche di questo discorso. Lui è l'unico veterano che è rimasto, perché poi di Giorginio Everatti ne andremo a parlare più avanti. Acerbi, secondo me, è giustissimo convocarlo, anche perché può dare ancora tanto. Poi, Bastogno ovviamente è super da convocare, Cristiano Biraghi, che sta facendo un'ottima stagione alla Fiorentina. Benissimo, una riserva di Di Marco lo può fare benissimo, anche perché lui nella linea 4 c'è nato, c'è cresciuto alla Fiorentina, quindi batte i calci piazzati, le punizioni, volendo anche i rigori, perché no. È un giocatore super utile, super... a me piace tantissimo Cristiano Biraghi e secondo me era giustissimo convocarlo. Giustissimo convocarlo anche Matteo Darmian. Ora, il ballottaggio qua è lo stesso di ogni anno. Darmian oppure Calabria. Ragazzi, Calabria in nazionale non ci starà mai, perché Mancini non lo voleva. Spalletti non lo vuole, mi pare anche Ventura non lo voleva tanto, e quindi Calabria in nazionale non farà mai tantissimo in questo momento. Giusto convocare Darmian, sta facendo una signora stagione all'Inter. Diamo ieri a questo premio, questa possibilità. Federico Gatti anche, giocatore secondo me molto molto forte. Nello scorso video sulla nazionale ho detto che secondo me Gatti meriterebbe un posto in nazionale, se gioca. Perché ricordiamoci che all'inizio stagione, le prime tre partite, alla Juve Gatti non giocava e ora sta collezionando tanti tanti minuti. È giusto convocarlo? A voglia, è giustissimo. Quindi Gatti super convocato. Destinut oggi, secondo me anche lì è giustissimo convocarlo, un tersino che si può combattere il posto con Di Marco a Manipa, se non a caso sta il Tottenham, che ha preso il posto di Spinazzola. Ecco, è giusto non convocare Spinazzola? Io ti direi di no, però dopo quello che ho sentito da Spalletti in conferenza stampa ho capito che Spalletti lo convocherà in futuro. Vuole solo però maggiori risposte, vuole solo mettere la fame, la bava alla bocca a Leonardo Spinazzola per prendersi un posto non solo da convocato ma anche da titolare. Quindi questa ricerca del migliore Spinazzola potrebbe avere un senso. Magari attappiamo il buco con Matteo Darmian che è una sicurezza, è un giocatore forte e quindi secondo me la lista dei difensori è fatta molto bene. Bonucci lasciato fuori? Ovvio. Bonucci in questo momento storico gioca all'Unione Berlina ma non può ancora giocare in nazionale. Poi si dimostrerà di poterci ancora giocare e lo convocheremo ma in questo momento lasciamo spazio ad altri. Baschirotto non convocato? Io ho perso le chance con Baschirotto, peccato, peccato perché io lo volevo vedere in nazionale, peccato. Anche è vero che non è che è riduce da un grandissimo inizio di stagione, l'anno scorso secondo me è stato troppo esaltato per quello che realmente è. Però vedremo come se evolverà la situazione. Io onestamente non lo avrei portato in questo momento, sono tutti azzeccati i convocati. Per Calabria ho già parlato, ecco uno che probabilmente avrei portato è Romagnoli. Non portare Romagnoli mi sembra una scelta un po' così, nel senso Romagnoli era da portare. Ora io non so se Romagnoli abbia qualche problema fisico. Perché mi sembra veramente strano non convocarlo. Vediamo. No, qua non mi dice che... Non mi dice niente, non mi dice assolutamente niente e quindi è stata una scelta tecnica di Luciano Spalletti. Al posto di chi lo potremmo convocare Romagnoli? Non lo so, onestamente i ragazzi non lo so. Forse di Darmian? Sì, allora è convocato probabilmente al posto di Darmian. Anche perché di Terzini abbiamo a sinistra Udoji e Di Marco e anche Biraghi. A destra invece ci abbiamo di Lorenzo e lo stesso Darmian. Ma non lo so. Romagnoli si era da convocare, però poi devi andare a vedere anche chi toglie. Dovevi togliere secondo me un Terzino sinistra a questo punto. Darmian no, lasciamolo perdere. Probabilmente allora avrei tolto Biraghi. Ma lasciamo così. I difensori, i convocati mi piacciono. Avrei inserito Romagnoli, ma va bene così. Teniamoci questi. Ok ragazzi, centrocampisti. Allora, l'Italia ha convocato 6 centrocampisti per un centrocampo a 3. Ricordiamo che i convocati in totale sono 27. Nicolo Barella, Inter. Giacomo Bonaventura, Fiorentina. Brian Cristante, Roma. Davide Fratesi, Inter. Manuello Catelli, Juve. Sandro Tonali, Newcastle. Allora, partiamo dalle certezze, come abbiamo fatto per i difensori. Barella. Non sta andando bene all'Inter, ma non mi posso immaginare un'Italia senza Nicolò Barella. Come mezzala a destra, a mani basse, uno degli italiani più forti, se non l'italiano più forte. Quindi, super convocato. Brian Cristante. Sta facendo una stagione pazza alla Roma. Lo possiamo trattare anche di difensore centrale. Non fatico a vedere Cristante titolare. Non lo faticherei a vedere, anche se magari lo potremmo provare contro Malta. Ma con l'Inghilterra avremo bisogno di altro perché dobbiamo andare a vincere. Ma vedremo. Quindi, va benissimo Cristante. Fratesi. Sì, non sta giocando tantissimo perché abbiamo un Mkhitaryan super in forma all'Inter. Però sappiamo, fratesi, cosa può dare. È la mezzala di più spinta, con più spinta che abbiamo in nazionale. E un giocatore così, segnatevelo che con l'Inghilterra farà la differenza. Perché loro, in area, avranno un giocatore in più da marcare. E lui dà un apporto offensivo maggiore degli altri. Sandro Tonali. Secondo me il centrocampo titolare in questo momento è questo. Nicolò Barella, Davide Fratesi, Sandro Tonali. L'inserimenti che può dare Fratesi e Barella. E Sandro Tonali che può dare l'equilibrio. La garra. Il possesso palla. Ok? Sandro Tonali porta molta sicurezza nel possesso palla. Io lo proverei anche regista. Anche perché sta facendo una buona stagione al Newcastle. Le sorprese sono state. Manuel Locatelli, in un certo senso. Ci poteva stare come non ci potevano stare. Secondo me qui è il quinto centrocampista. E soprattutto Giacomo Bonaventura. Giacomo Bonaventura. Che torna in nazionale dopo tantissimo tempo. Ora, parliamoci chiaro. Non sarebbe stato convocato senza l'infortunio di Bellegrini. E lo sappiamo tutti. Bellegrini starà auto un mese. Però magari lo porti in nazionale. Potrà fare il suo. È un giocatore che sicuramente non lo metti in mediana. Difficile vederlo come mezzala. Lo puoi mettere come trequartista. Quindi magari stai perdendo. Hai bisogno di vincere. Io un Bonaventura. Averlo in panchina. E non averlo in panchina. Io scelgo sempre di averlo. Ecco. Quindi è giusto anche portarlo. Locatelli ci poteva stare come ci potevano stare. Non sta facendo una grande stagione. Però con questo centrocampo anche qui non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Vedo un centrocampo titolare con Barella, Tonalli, Frattesi. Oppure Barella, Cristante, Frattesi. Barella, Tonalli, Cristante. Quei, diciamo, i titolari sono quattro. Tre giocheranno. Uno lo sarà lasciato fuori. Bonaventura e Locatelli, diciamo, sono quelli un po' più indietro. Ragazzi, piccola parentesi che non ho detto su Giorginio e Verratti. Giocatori che, secondo me, ormai non devono più essere convocati. Per leadership, forse sì. Giorginio, l'unico. Perché Verratti se n'è andato in Qatar, quindi non deve neanche essere preso in considerazione. Giorginio, probabilmente, una chance magari di confermarsi in nazionale gli doveva essere data. Non gli è stata data, non sono totalmente d'accordo, ma va bene lo stesso. Se Spalletti ha deciso questo, decisione è comprensibile. Sette gli attaccanti convocati, ci può stare. Domenico Berardi, Federico Chiesa, Moise Ken dalla Juve, Giacomo Raspadori dal Napoli, Gianluca Scamacca dall'Atalanta, Mattia Zaccagni dalla Lazio, Nicolo Zagnolo dalla Stonevilla. Allora, risalta all'occhio, risalta all'occhio la mancanza di Ciro Immobile. Un cambio generazionale? No, cioè sì, un cambio generazionale. Gli hanno dato la fascia da capitano la scorsa convocazione, ma in questo momento appunto non l'hanno convocato. No, no, non è... Non giocheranno... Ok, non sono stati convocati, semplicemente è stata una scelta tecnica. Ho letto che c'era stato qualche acciacco, però che è pervenuto dopo la convocazione, quindi non sarebbe stata comunque convocata. Invece qua mi dice che non è stato convocato per l'infortunio. Fatto sta che Immobile è stato lasciato fuori, qua mi dice, per infortunio, quindi rimaniamo che è stato lasciato fuori per infortunio. E lo mettiamo da parte. Re Teghi anche è stato infortunato, doveva essere convocato. Insomma, questi sono stati convocati, scelta obbligata. Berardi, finalmente. Chiesa, migliore italiano che c'è. Moise Ken, ci può stare. Rasputori, ci può stare. Gianluca Scamacca, secondo me è un ottimo bomber. Mattia Zaccagni, farà il titolare. Ha qualche problema fisico, però, credo, giocherà. E Nicolo Zagnolo, veramente qua, credo sia il più debole insieme a Ken, ma potrà dare una piccola mano. Con Immobile e Re Teghi, io penso che rispettivamente sarebbero andati a prendere il posto di Moise Ken e Nicolo Zagnolo. Io credo che l'Italia, a livello d'attacco, ma anche a livello di rossa totale, vista così con questo cambio generazionale che ha fatto Spalletti, è tanta tanta roba. Ma veramente, è tanta tanta roba. Un attacco titolare, io me lo immagino con Federico Chiesa, Scamacca e Zaccagni. Oppure Chiesa, Scamacca e ci metto Berardi perché in questo momento è più in forma di Zaccagni. Quindi qua Chiesa, qua Scamacca e a destra ovviamente Berardi perché sta più in forma di Zaccagni. Lasciato fuori anche Politano, credo sia ovviamente una scelta fisica perché era infortunato. Detto questo, questi sono stati i convocati di Luciano Spalletti, questo è stato il mio personalissimo padre re. Scrivete nei commenti cosa ne pensate dei suoi convocati in nazionale. L'Italia riuscirà a fare 6 punti in queste due partite? Non lo so. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.